Io penso che ci vuole una grande mobilitazione popolare, l'ho detto anche dopo l'abuso di potere del Presidente del Consiglio, quindi da un lato la preparazione del ricorso che sta andando avanti bene, abbiamo tante ragioni giuridiche, sono molto soddisfatto del lavoro che stanno facendo gli avvocati, dall'altro una grande mobilitazione popolare, vedere ieri tante persone difendere la città, difendere il territorio dalla speculazione ma anche dall'immobilismo, perché noi abbiamo una proposta su Bagnoli, l'abbiamo formulata, adesso la stiamo anche arricchendo, quindi credo che siamo sulla strada giusta e Napoli vincerà questa lotta contro un tentativo di esproprio di democrazia. Vedo una grande mobilitazione popolare che sta solo agli inizi e vedo invece un abuso di potere in violazione di legge e costituzione da parte del Governo che con questo commissariamento rischia di mettere una pietra tombale sul rilancio vero di Bagnoli nel rispetto della natura, dei cittadini, del paesaggio e che quindi ci sia veramente la Bagnoli che vogliamo. È chiaro che Paolucci sostiene il commissario e quindi è chiaro lo sosterrà anche politicamente. Sì, ha contattato la mia segreteria per un incontro, voleva così incontrarmi, insomma io non ho motivo per fare un incontro così, io seguo le leggi e gli atti, siccome è in questa legge che è incostituzionale e quindi vedremo come andrà a finire, sta scritto che c'è una cabina di regia, io risponderò al commissario appena ci sarà o una convocazione formale, non mi interessano incontri informali, non ho da incontrarmi informalmente col commissario, poi il commissario informalmente può incontrare e sta incontrando tra cene e cenette chi ritiene lui, lo fa perfettamente nel pieno dei suoi diritti, a Napoli c'è la libertà di movimento, di circolazione, di pensiero e di incontro, quindi sono molto contento che lo stia facendo, ma non ci sono ragioni per incontrare informalmente il sindaco di Napoli perché io considero quel commissario il frutto di un abuso di potere, il prodotto di un abuso di potere, di un atto in violazione di Costituzione, quindi se lo incontreremo lo decideremo nelle modalità con chi, a che livello nel momento in cui avremo una convocazione formale.